Ciao a tutti! Bentrovati, bentornati. Avevo avuto qualche problema prima di iniziare questa registrazione? Eh, sì. La discusione non voleva collaborare. Una ventina di minuti di queproquo giù per su. Su per giù, dilla bene. Questo è City of Heroes. Una grande cagata. Freedom! Sì, in effetti non è che... Ok, dice, voi avete un pupazzo livello tipo 3. 2, 2, no, 3. Scusa. Quando le volete sapere? Voglio dire, quando una roba fa schifo, fa schifo. Finalizzo. Probabilmente dieci anni fa, quando è uscito, sette più o meno, era un gran gioco. Sette anni fa. Sì. Adesso, un po' meno. Poi, quando leggi nei credits, Cryptic, NCSoft, ti ricordi, ah cazzo, Guild Wars, ma poi ti ricordi, ah cazzo, Aion, e Cryptic, ah cazzo, una... Aion non era mica così male. I primi 30 livelli, 20 livelli. Dopo devi gringare come un maiale e ti passava la roba. Dipende se ti piace, ma qua stiamo a livello 3 e già ci fa schifo. Vabbè, effettivamente. Secondo te sto per morire? No. Vabbè, è solo nulla, che vogliono, sei un supereroe, pim pum pam. Un bruttissimo supereroe. Sì, a inizio, è vero che stiamo giocando nella versione Freedom, quindi gratis. Non credo che cambi molto nella grafica se tu paghi. Forse c'è qualche vestito più bello. Ma, permettimi di essere scelti che dubbiosa. Ah, found information. Oddio, io non ho proprio voglia nemmeno di provarlo, sto giochino. Dai, facciamo vedere almeno come moriamo miseramente. Ok. Guarda però, che spadone. Guarda però, che spadone. Guarda però, che spadone. Ho invalitato. Bellissimo. Scusa nemmeno a meno che uno. Allora, select task, ho selectata. Ma ti devi ammazzare? Devo trovare, find the appropriate documents of rip of the source. Non ho capito dove... Cioè, prima ti ricordi quando ho logato nei tevali tentativi c'era anche un modo... La freccetta, sì. Ah, sì, adesso invece mi ha detto... Sì. Ah, devi... Li devi uccidere, li devi prendere i documenti. Sì, ma chi... O li provi già morti. Dai, che palle. Io sti giochini non capisco subito come fanno. Allora, fin di tutto non so dove andare. Muori, vediamo muori. Muori a fare sempre sta cazzo di finestra qua. Ma una mappa non ce l'ha. Ah, ecco qua, aspetta. Troviamo questo qua. Fine contact, ok. Prima ci sono. Aspetta qua. Ah, mi dice che praticamente è qua vicino. Dobbiamo andare lì qua, verso 105. Dio, che palle. Posso dire che non sono entusiasmata proprio per niente? No, guardate, abbiamo già giocato altre volte. Dio, la grafica non è nemmeno male. Cioè, se vi piacciono i supereroi. Oddio, no. Ti devono proprio piacere occhi chiusi, perché sono occhi chiusi ci puoi giocare. E non avete voglia di aspettare che vai in free to play. Ecco, ho parlato con questo. Ask about discount. Vabbè, lì chiede di fare domande. Leave, no. Quindi? Find officials. Rip officials. Forse posso rinettino di sopra? Raga, io non è che vorrei smontarvi subito dicendo mi sono già rotto le palle perché sono 30 secondi del gioco e non si riesce nemmeno ad ammazzare nessuno. Però non so che vuoi dirvelo. Ci siamo ratti le palle a questo gioco, non ci piace? No, ci provo a parlare di nuovo. Eh, ma non ti interessa quello che c'è da dire? Ah, è vero, perché è detto di prendere la in saccoccio. Che palle. Guardate, se vi è piaciuto un tempo beh, abbiamo gusti diversi, ci può stare. A me fa veramente schifo, non riesco a capire un cazzo. Find the Upgrade of Wipe of Visual. Dove cazzo stanno sti Wipe of Visual? Posso stavuare? Guarda, che carina però questa del... Per carità, questo è la 20 in dubbio. C'è un bel quale di walls. Però, buh... Vabbè, c'è sta gente in fila che viene esaminata. Cioè, guarda questi come ci hanno le braccia alzate. Ho capito che è in mani in alto. Però, signore mio... No, guarda, non ce la posso fare. Vengo perdonato? Penso di sì. Mi fa veramente cacare. Raga, scusate, ma questo gioco è veramente una merda. Io non lo capirò, c'è un po' di difetti. Questo salta qui giù. Salta, voglio andare a me a questa. Ma chi è quello? Ma che è? Grazie a tutti.